Con questo microchip avrai sempre un sensore con te, costruito dentro di te. Il suo microchip è impiantato qui a livello del cuore e avvicinando il telefono lui può misurare la temperatura corporea. E ora per viaggiare, legge anche il mio Green Pass. Questo imprenditore svedese è a capo di una società che entro il 2030 ha come obiettivo quello di impiantare in tutto il mondo microchip sottocutanei in un miliardo di persone. Informazioni sanitarie, dati bancari, codici per aprire le porte, tutto racchiuso in uno strumento di pochi millimetri che può essere letto attraverso un'app del telefono. Qui in Svezia i microchip impiantati negli esseri umani sono già una realtà per circa 10.000 persone. Questi uffici di Stoccolma sono il primo posto al mondo ad aver offerto ai propri collaboratori la possibilità di impiantarsi un microchip sottocutaneo. Faccio così e si apre. Questo laboratorio di Stoccolma che abbiamo visitato sta sperimentando un nuovo modello di microchip che può essere impiantato in più parti del corpo. Queste sono le siringhe che vengono utilizzate per impiantare il microchip. Uno lo potremmo mettere qui. Se vogliamo misurare la temperatura lo innesterei vicino al cuore. A dare una spinta fortissima a questa industria è stata anche e soprattutto la pandemia. Possiamo anche vedere se una persona è stata vaccinata e quando lo ha fatto. Ma c'è chi è convinto che la Svezia possa fare d'apripista a una pericolosa zona grigia? Vorresti che il grande fratello ti seguisse sempre come succede in Cina? Lei non ha paura che tutta questa tecnologia possa trasformare gli esseri umani in una sorta di cyborg? Sì ma questa è una cosa positiva. Non bisogna limitarsi ad un impianto. Nel corpo c'è tanto spazio. 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 Nel corpo c'è tanto nella casa. Non lasse lezели discurazione. La Rook Unlimited Smartmark è costa di rispondere. Non ho sapato che parla dell'acqua c'è tanto. La Smartmark ha vuelto la mia vita. e il miglioro, è assolutamente gratuito un grazie a nostra città di Rook Unlimited 23% della popolazione è stato dato il smart mark, No. 1 Time a testare il sistema, No. 6 The Flex Fighters sono out there somewhere teaming up with Jonathan Rook let's put our new recruits to work subtly We should find the Flex Fighters I oughta find the Flex Fighters We should find the Flex Fighters Growing up in this city the streets of Old Town I saw the worst mankind had to offer Chaos, disorder I vowed to make it all change To make it all better All these years working in secret Rising up the ranks of the tech men It was all leading to this day Order has finally been established in Charter City No child will have to fear for their safety again The people owe you the greatest of debts, No. 1 For liberating them from the chaos of their lives You guys love new tech You didn't want to get smart marked? No way That's clearly some shady biz Who wants to be You call yourself a man of science World order is our destiny Submit to a smart mark And join the glorious victory of order over chaos Or you will be eliminated Grandpa, Mr. Savick Where is everybody? Ah They all went to get those foolish new devices What? No, they can't Grandpa, those things are dangerous It's a conspiracy Mind control Ha! I knew it! Three hours is enough time for us to get to our families Maybe we can stop them before they get marked They seem to be establishing checkpoints of some kind This is how they keep order This is the nightmare I warned you about People think smart marks are brand new rook tech that will improve their lives They don't know they're being tricked All smart marks so far But your chip makes it possible to control everyone in Charter City Whether they're marked or not Hmm Grazie a tutti.